Ecco l'entrata in campo delle due compagini, Virtus Lanciano, Virtus Castelfrentano, big match della giornata. Ecco l'arbitro di signor Massimini Angelo della sezione di Lanciano, sezione aria di Lanciano. Ecco le rispettive, vanno a salutare gli avversari delle rispettive banchine. Sì, sì, fai alzare dopo, sì, sì, fai alzare i ragazzi dalla panchina adesso. Un minuto di raccoglimento in memoria del fratello del Vicepresidente Cavaliere Carlo Iocco, dirigente della gara odierna. In bocca al lupo, eh?